è nascosta buonasera cambio look tata allora siccome ieri non ho fatto il video perché avevo da lavorare diversamente non ho avuto il tempo materiale di farlo nei vantieri e oggi mi sono imbattuta in alcune domande e quindi faccio questo argomento e faccio una postilla l'argomento che tratto nel video di oggi è la differenza tra esoterismo e occultismo visto che tantissimi non la sanno e quelli che pensano di saperla la confondono ma prima volevo raccontare una cosa che ho letto poco fa che mi faceva piegare dal ridere e un po però mi ha demoralizzato in uno dei tanti gruppi che frequento c'erano alcune persone che chiedevano se qualcuno aveva mai fatto la uglia la tavola uglia e cosa ne pensassero e via dicendo ora avevo fatto anche il video io sulle sedute e sulla uglia tanto è vero che ho dato come risposta così tanto per commentare non è un gruppo dove io gestisco quindi non mi interessa più di tanto ma giusto perché sono utente rispondevo come gli altri ho messo il link del mio video quello dove spiego appunto la uglia lo trovate nei miei video qua la uglia e lo spiritismo in generale eccetera le altre risposte giuro mi hanno fatto cadere le palle in terra allora non la fate bruttissima esperienza l'ho fatta una volta poi se gli vai a chiedere è bruttissima esperienza quindi cosa è successo mentre ero lì concentrato intento con gli amici a chiedere di presentarsi a tizio caio sembronio si è mosso un bicchiere che c'è rola si è mosso un bicchiere hai vissuto un'esperienza alla amity will possession oppure ho cominciato a vedere ombre con la coda dell'occhio ho sentito bussare alla porta o che ne so l'indomani sono cominciate un sacco di sfige ecco io a tutte queste risposte qua una sotto l'altra non lo faccio perché sono educata gentile ma ci avrei scritto ma vai a cagare ma vai a cagare ma vai a cagare ripetuto ma te pare un'esperienza orribile che si sia spostato un bicchiere obiettivamente ma vai a cagare niente era una postilla che proprio ce l'avevo qua da prima quando seguivo sto cavolo di discorso che adesso ho tolto anche le notifiche non ne voglio sapere niente perché mi viene l'ansia a leggere certe risposte ma non l'ansia dalla paura l'ansia gastrite nervosa ok torno seria esoterismo e occultismo l'occultismo è la pseudo scienza la scienza lo studio che porta alle materie occulte l'occultismo si interessa delle altre dimensioni si interessa delle entità l'occultismo evoca non si un occultista non si occupa dei delle problematiche degli esseri umani viene prega una mazza un occultista di andare a scomodare con un'evocazione una qualche entità per risolvere un problema di corna del marito o di mal di gambe della nonna mentre invece l'esoterista crea riti se è ritualista o pozioni erbe se è erbaria o erbario che sia cure varie aiuti con le pietre se è cristallo terapeuta e via dicendo e prano in generale è rivolto all'aiuto e allo studio dell'essere umano quindi a aiutare le problematiche diciamo di vita corrente l'occultista non vi aiuta l'occultista si relaziona con le entità non si relaziona con gli esseri umani per essere un occultista bisogna prima essere passati e diventati esoteristi mentre invece un esoterista può anche non essere assolutamente non diventare mai un occultista diciamo che l'esoterismo è la strada dello studio che potrebbe portare se uno vuole all'occultismo ma si può anche fermare all'esoterismo l'esoterismo è la magia pratica è la divinazione sono vengono utilizzate in esoterismo anche le proprie capacità esp anche se quelle le hanno anche gli altri divinazione pozioni incanti riti rituali aiuti in genere attacchi perché l'esoterista è anche quello che può attaccare con negatività con fatture con è sempre un esoterista all'occultista di fare una fattura ne frega la mazza come neanche di togliervela l'occultista tutt'altre mire l'occultista vive il mondo dell'occulto quindi si relaziona si rapporta studia perché l'occultista per lo più uno studioso il mondo dell'oltre il mondo della quarta della quinta della sesta dimensione e fin dove riesce ad arrivare poi a seconda delle sue capacità e del suo livello diciamo animico ma non ha nulla a che vedere con le situazioni di vita quotidiana degli esseri umani degli esseri viventi un esoterista o aiuta o attacca ma utilizza delle tecniche appunto esoteriche dei mezzi esoterici delle attrezzature esoteriche un occultista utilizza le attrezzature esoteriche perché anche l'occultista usa determinati incensi ma per sue cose personali appunto per evocazioni di entità per collegamenti con le entità per entrare in stati meditativi o anche più elevati come per esempio quando si entra in stati catatonici per collegamenti con gli spiriti o altri ancora ma in generale non sono due mondi diversi un occultista non vi farà mai un giro di carte una stesa esoterista sì un occultista non si mette a farvi un pendolo usa le carte usa il pendolo ma non per farle a voi li usa per i contatti suoi medianici per i contatti con le entità varie per domande che interessano a lui non per questioni meramente terrene ecco in generale l'esoterista è quello che studia gli incanti le energie l'attrazione delle energie positive la pulitura delle energie negative poi ripeto un occultista per forza di cose è anche esoterista perché prima diventi esoterista e dopo arrivi al livello di occultista ma non tutti gli esoteristi sono occultisti mentre invece tutti gli occultisti sono stati e sono esoteristi anche se poi a quando arrivi al livello dell'occultista dell'occultismo non ti interessi più delle situazioni diciamo materiali mortali umane che non hanno più una rilevanza nel tuo modo di pensare perché conosci dei livelli molto più elevati vivi un ambiente diverso il problema semplice del non trovare lavoro del marito che ti fa cornuta della moglie che è scappata con l'idraulico o del figlio che si è messo con una che non ti piace all'occultista ne frega la mazza manco di guardarlo mentre invece l'esoterista quello che rimane esoterista quello che fa esoterismo che si interessa di più all'esoterismo è più portato a cercare soluzioni e ad aiutare o attaccare a seconda di chi è l'esoterista e di che cosa gli viene chiesto però in generale diciamo che è più portato al rapporto umano mentre invece l'occultista vive in un mondo che è rapportato con il rapporto entatico quindi con l'entità e a meno che non si tratti di questioni come possono essere le spiegazioni per esempio che cerca di dare sempre per aiutare le persone però per aiutare le persone ad aprire la mente a evolvere a crescere spiritualmente a crescere anche culturalmente ecco non a riprendersi un marito che è scappato con la lataia il succo è quello mentre invece l'esoterista è più predisposto a quel tipo di situazioni a quel tipo di aiuti a quel tipo di tecniche da utilizzare l'esoterista le carte ve le fa per darvi dei consigli su come agire in certe situazioni l'occultista le fa per conto suo per connettersi con uno spirito che gli interessa e avere da lui delle risposte concrete su questioni che esulano la vita di tutti i giorni domande differenti e via dicendo ci sono anche attacchi o aiuti da parte degli esoteristi assolutamente degli occultisti scusate però un occultista si interessa nel vostro caso se per esempio intorno a voi si trova un'entità che disturba se ci sono delle problematiche di carattere comportamentale indotte da entità da cose grosse da cose pesanti non per i problemucci di tutti i giorni mentre invece un esoterista un esorcismo non te lo sa fare l'occultista si esorcismo io non intendo quello del pretino del film col diavoletto che si è impossessato dell'anima quelle sono caga cavolate da film la mia finezza maria antonettiana viene fuori però ecco l'esorcismo di un occultista ammesso e non concesso che lo faccia una volta o due nella sua vita è sempre richiesto in caso di presenza di quelle entità di cui parlavo nella caratterialità dell'entità che ho messo il video sempre sul mio canale che si chiamano appunto elementari oppure mutaforma entità rarissime che quindi si incontrano rarissimamente nel corso di una vita intera ma che hanno necessità di un esorcismo e non hanno nulla a che vedere con i preti che fanno esorcismi che sono fasulli farrocchi non servono a niente non hanno nulla a che vedere con il diavolo che non esiste con il satana chiamatelo come volete che non esiste non si impossessa di corpi non gliene frega la mazza di entrare dentro alle persone e neanche i demoni che non gliene frega manco a loro di andare a scomodare il calzolaio per farlo ballare nudo di notte urlulando alla luna quelle sono tutte cavolate folcloristiche religiose tutte storielle inventate a cazzo come dico sempre ma ci sono dei casi rarissimi ripeto che però hanno necessità di liberare una determinata persona da un'entità pericolosa che può essere un elementare può essere un mutaforma nel caso in cui sperando non abbia ancora già incenerito la persona che perseguitava per tentare di allontanare quelle entità ma sono cose ripeto molto rare pesanti cose diciamo abbastanza complesse nell'insieme che un esoterista semplice non potrebbe mai risolvere ecco allora entra in campo l'occultista anche per aiutare l'essere umano ma appunto ripeto lo aiuta in questi sensi per questioni meramente umane se non trovi lavoro tirati sulle mani che cercano un altro hai la laurea vai a lavare lo stesso successi accontentati testa bassa e camminare e va bene così non ci vuoi fare niente l'esoterista che magari ha voglia di chiedere favore all'universo io non lo farei mai neanche per me stessa figuriamoci per gli altri ma può anche fare un qualche rituale un qualche rito che chieda appunto all'universo un aiuto per se stesso o per qualcun altro e via dicevo l'occultista di queste cose non se ne interessa non se ne occupa le erbe per esempio l'esoterista le lavora anche diciamo per terapie per pure per aiuti fisici per aiuti spirituali verso le persone l'occultista utilizza le erbe per se stesso per purificare gli ambienti via dicendo le può consigliare se uno gliele chiede come posso fare per purificare casa mia palo santo salvia bianca rosmarino smudge via dicendo il consiglio te lo da però ecco mentre l'esoterista magari ti crea la miscela apposta anche che può servire in un determinato caso la bruciare eccetera l'occultista non ci si mette nemmeno a fare quelle cose lì se se la crea se la crea per lui sempre per il discorso delle sue evocazioni e i suoi studi personali le sue entrate in trance eccetera comunque sono due mondi relativamente diversi seppur collegati perché appunto per diventare occultista uno prima deve essere stato esoterista è un po come dire che ne so sono maestra elementari oppure sono assistente alle comunità infantili ecco è una qualifica in più l'occultista ma in teoria poi il lavoro cambia o come dire che ne so sono infermiera e sono medico stessa cosa l'infermiera fa determinati lavori il medico sa fare il lavoro dell'infermiera ma poi sa fare anche altro e non si mette più a fare il lavoro dell'infermiera perché ormai fa quello del medico è un po la stessa cosa non sto paragonando un medico a a a un occultista sono due mondi completamente diversi sto facendo un esempio è come dire posso farne mille di esempi e come dire sono il manovale e sono il muratore una volta che diventa un muratore sono capacissimo a fare il lavoro da manovale ma non lo faccio più perché ormai sono il muratore ecco la stessa cosa era quello il modello diciamo dell'esempio le differenze sono queste è proprio una differenza sostanziale l'occultista continua tutta la sua vita a studiare perché è proprio quello il suo scopo studiare le basi e progredire proprio nella conoscenza dell'occulto cioè del nascosto ai nostri occhi di ciò che non conosciamo mentre invece l'esoterista può fermarsi al suo studio base di esoterismo conosce le tecniche delle sue mansioni è felice così e va avanti così non è che per forza bisogna diventare occultisti si può anche rimanere esoteristi e si può anche diventare di bravissimi esoteristi è un ramo che ha un tot di studio una volta capaci a fare quelle determinate cose ci si applica per diventare sempre migliori per cercare di sfruttare appieno la materia le materie in questo caso studiate per essere esoterista invece l'occultista rimane un ricercatore e lo rimane per sempre perché non si arriva mai alla conoscenza totale manco da morti perché se si arrivasse da morte la conoscenza totale non ci sarebbe la reincarnazione se la reincarnazione cioè vuol dire che i pezzi ancora mancano è tutta lì la differenza nella vita chiesta in tanti perché io spesso sottolineo esoterismo e occultismo e li si divido sempre e moltissimi in più di un video e nei gruppi dove anche faccio questi discorsi dove posto gli stessi miei video mi hanno fatto spesso questa domanda la risposta è questa vi do la buonanotte vado a dormire con il mio nuovo look quanto mi piacciono mi sono fatta sembro con l'anima zingazeta il conte non mi ricordo come si chiamava quello mezzadonna e mezzuomo mi piacciono ste cose vi rinnavo la buonanotte vi ricordo che qua sotto trovate i link delle di tutti i social dove io vazzico twitter pinterest tumblr il mio blog facebook instagram e chi più ne ha più ne metta ci sono i link di alcune delle mille mila libreria online che vendono che hanno a disposizione i miei libri e se ce ne avete voglia lasciate il like pollicino in su se non l'avete già fatto e vi interessano i miei video ce ne sono mi sembra la tv una sessantina ad oggi potete iscrivervi al mio canale per vedere la lista di tutti i miei video basta cliccare prima sul mio nome qui sotto e poi in alto dove c'è scritto video li scorrete e sono tutti in fila ci sono tutti i video che ho fatto fino ad oggi ci sentiamo domani ciao